Guardi, sono sette giorni che noi Benetton siamo sotto shock, uno shock, l'avete scritto sui giornali? Sì, è proprio uscito che siete sotto shock, eh no, 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 se no non saremo proprio sotto quel shock, e comunque adesso che abbiamo in qualche modo fatto questa figura di shock, abbiamo preso Castellucci e abbiamo detto adesso shock, sono sotto cash, no, lei non ha idea della paccata di soldi che ci ha fatto fare Castellucci in questi anni.